Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video, video con le uscite di aprile. Ma prima di cominciare voglio ringraziare tutti quelli che sono passati a trovarmi a Romics, ho conosciuto alcuni di voi, è stato fantastico, è bello avere questo feedback diretto, scambiarci pareri, cose, vis-a-viso. Ma arriviamo subito alle uscite di aprile perché al solito questo video esce in ritardo. Che vogliamo smentire la fama del canale? Sia mai! E quindi beccatevi le uscite di aprile. Ho portato, vabbè questa premessa, ma al solito ve lo dico, ho portato quelle che secondo me sono le uscite più interessanti del mese, ovviamente non sono tutte e ovviamente avrò scordato di qualcosa di molto succoso e bello, come al solito. Ma nel caso scrivetemi sotto tutte le mie dimenticanze, sotto nei commenti, così magari ci scambiamo pareri e allunghiamo la nostra wishlist, che non è mai abbastanza lunga, mai, mai. Non spendiamo mai abbastanza con i libri. Partiamo subito. Escono, infatti, l'11 aprile Jade Legacy, il 3, il terzo della saga delle ossa verdi. Vi metto da qualche parte qui o qui le cover. Esce in casa Oscar Mondadori al costo di 26 euro per 816 pagine. Terzo della saga, quindi per chi lo sta seguendo, insomma, arriva l'11 aprile in italiano. Come vedete, i prezzi dei libri li evitano nel frattempo. Sempre lo stesso giorno esce un libro che esteticamente abbiamo visto le foto online. Insomma, la casa editrice ha postato alcune foto online, sembra bellissimo dal punto di vista estetico, ed è La ragazza che cade in fondo al mare, di Exio. Esce al costo di 24 euro per 396 pagine. Racconta di questo, è in realtà un retelling mitologico, e racconta di questo dio del mare al quale viene sacrificato ogni anno una fanciulla. Il nostro libro viene ambientato in un momento in cui Chong viene... Ovviamente la mia pronuncia dei nomi orientali è pessima, quindi perdonatevi. È peggio di quella inglese, il che è dire tutto. Comunque, lei dovrebbe essere sacrificata al dio del mare. Ma la sorella del fidanzato si getta nelle acque al posto di Chong per salvare la ragazza e salvare il suo rapporto con il fratello. Quindi si getta nelle acque del mare e va alla ricerca di questo dio del mare che richiede questo sacrificio. Insomma, sulla carta sempre bellissimo. L'estetica del libro è meravigliosa, avrà tutte le pagine colorate, insomma qualcosa di molto... Voi sapete che io sono vittima del marketing. Questo mi attira tantissimo, un po' per la drama e un po' per l'estetica. Ma, insomma, abbiamo detto che i libri stanno raggiungendo, pure sì. Non indifferenti. Arriviamo al giorno successivo, ed è il 12 aprile, in cui escono due libri della saga Twisted Tale. Che cos'è? È una saga di libri uscita negli Stati Uniti con un target molto giovane, quindi parliamo di libri adatti dai 9 anni in su, ispirati ai classici Disney dove c'è un Twisted Tale. Cioè, la trama viene cambiata in qualcosa e si racconta un motif della Disney, praticamente, e se fosse. Escono in particolare entrambi giunti, ed entrambi al corso di 14 euro, escono specchio specchio. E se la regina cattiva avvelenasse il principe, quindi ovviamente ispirato a Biancaneve, e ci racconta la storia modificata, nella quale, praticamente, anziché tentare di avvelenare Biancaneve, la regina va ad avvelenare il principe azzurro. Questo uscirà, appunto, con 400 pagine, abbiamo detto, al corso di 14 euro. Sempre lo stesso giorno esce anche, antico come il tempo, sempre un libro della saga Twisted Tale, dedicato alla Belle e alla bestia, dove Belle, il momento in cui tocca la rosa, ce lo ricordiamo tutti la scena in cui Belle tocca la rosa e la bestia si arrabbia, ma in quel momento lei acquista dei ricordi del passato e scopre che è proprio la madre, la fata, che ha maledetto Adam, la bestia. Questi, appunto, fanno parte della saga Twisted Tale, mi interessano tantissimo. Io, in realtà, se mi seguite da un po', sapete che sto seguendo l'altra saga, quella dei Villain, in inglese, che si chiama, non me lo ricorderò mai, comunque, e anche quella è cominciata a uscire in italiano, però anche questi mi attirano. Anche se, devo dire, al solito, queste sono edizioni giunte molto economiche, perché rispetto agli altri libri costano 14 euro, e questo della Belle e la bestia ha 496 pagine, ma rispetto alle edizioni inglesi sono velo belle. Quindi, se siete curiosi, andate a dare un'occhiata, ma sicuramente io sono libri che recupererò, penso che recupererò in lingua. Comunque, vi metto su nelle schede e giù nell'infobox il link al video dell'altra saga, quella dei Villain, perché più o meno il target è quello, l'idea è quella, e vabbè, se siete amanti del mondo Disney, immagino che in tanti state seguendo questa saga, questa saga, questa linea di libri, in realtà. Arriviamo al 14 aprile, in cui esce l'imperatrice delle anime, edizione Fanucci, scritto da Kelly Lee Baker, che è il secondo del collezionista di anime. Esce per 400 pagine, al costo di 16,90 euro. Quindi, se avete amato il primo, esce anche il secondo, hanno delle cover bellissime, e questa cosa mi attira tantissimo, ma troppi imbri. Sicuramente sono nella mia wishlist di sausage, mai ci arriverò, però delle cover splendide, bellissime. Però, se avete letto il primo e l'avete amato, arriva ad aprile il secondo. Il 18, infine, esce Monstress, il 6 di Monstress, il voto. Questa è una saga a fumetti, che esce, edito Oscar Inc. Escono, questo esce al costo di 19,90 euro per 192 pagine. Dei primi, io ho fatto la video recensione, ve la metto su nelle schede, giù nell'info box, io credo di essere rimasto, credo, tipo al quarto, e le ho letti in PDS. Una saga meravigliosa, fantasy, molto complicata. Comunque, se siete curiosi, andatevi a vedere la recensione. Al solito vi ricordo che le recensioni sono tutte in spoiler, quindi potete vederle senza problemi. È una saga davvero molto bella per gli amanti del fantasy. Arriva il sesto volume in italiano. Devo assolutamente recuperarmi sia il 5 che questo. Accidenti, sono rimasta indietro. Queste più o meno le uscite che a me sembravano più interessanti per il mese, però, al solito, se ho dimenticato qualcosa, scrivetemelo sotto con un commento. Novità rispetto agli altri video sulle uscite, vi porto qualche anticipazione di maggio. Perché? Perché stanno arrivando annunci fantastici. Escono praticamente tutti il 2 maggio. Anche se sapete che con la crisi della carta qualcosa viene rimandato, spostato. Comunque, sono stati annunciati per il 2 maggio. Ed escono This World Kingdom di Tere Masi, che verrà tradotto con le trame del regno in italiano. So che intatti lo attendevano. E arriva il 2 maggio. E esce anche Una magia infusa di veleno di Judy Glynn, con una cover spettacolare. E infine, ultimo, ma non ultimo, delle uscite del 2 maggio, è Il Figlio delle Ombre di Lamarillière, che uscirà in flessibile, come era la prima saga. Questo mi fa ricordare che io devo ancora leggere il primo. E ovviamente Il Figlio delle Ombre è la prima cosa che si compra. Appena esce, e usciranno tutti a maggio. Di cosa parlano? E più in maniera approfondita, ne parleremo nelle uscite di maggio, sperando che non vengano troppo rimandati. In particolare per me è quello della Marillière, che è quello che attendo di più. Comunque, delle trame e di cosa parlano, ne parleremo meglio nel video di maggio. Vi dico soltanto che Il Figlio delle Ombre della Marillière è il seguito di quello già uscito in italiano, con il retening della favola dei Sette Cinghi. Comunque, Vi porto anche qualcuna delle uscite in inglese, poche ma buone, spero, delle uscite in inglese di libri di aprile. Esce infatti il 4 aprile Spellbound di F.T. Lucans, il quale vi ho già portato su Disaster, anzi vi metto su nelle schede, già nell'infobox se trovo la video recensione, anche se probabilmente era in un wrap-up, cerco di mettermi. Quel libro era il retening del Mertur, cioè della storia tra Merlino e Artù. Questo è un paranormal, sempre di Lucans, con 336 pagine. I suoi libri sono molto leggeri, molto divertenti, sono dei romance essenzialmente, però molto leggeri e molto divertenti, molto scorrevoli. per letture piacevoli. Per ora non è arrivato niente in italiano. Arriveranno, chissà, forse un giorno. Hanno tutti delle cover fantastiche e su Disaster mi aveva divertito tanto. Forse recupero anche Spellbound, chissà, anche se, ripeto, escono troppe cose in questo periodo. L'11 aprile esce Un Terrain, The Sky, di fonda lì. Sessa ufficienza di Jay Seed, di cui esce il terzo, insomma, in italiano lo stesso mese. e la cosa strana è che ha 160 pagine. Non so se ho trovato io informazioni con un errore, nella numerazione delle pagine o soltanto un racconto lungo. Non sono riuscita a trovare molte informazioni. Comunque viene presentato come una favola epic fantasy e l'unica cosa che mi lascia in dubbio è il numero di pagine, ma se arrivano maggiori informazioni vi aggiorno. Ultimo, ma non ultimo, so che è un libro molto atteso che sicuramente arriverà in italiano. È In the Live of Puppets di T.J. Clon, di cui abbiamo già avuto altri libri per la serie Oscar Volt in italiano e viene presentato come un retelling di Pinocchio. A me non attira tantissimo, io non sono amante di Pinocchio, Dio lo so che questa cosa mi porterò l'odio di tanti, ma ognuno ha le proprie favole. E niente, Pinocchio a me non ha mai entusiasmato tantissimo, però so che in tanti attendete Clon sempre con grande gioia ed entusiasmo, quindi arriva, ma ricordiamocelo, visto che la Oscar Volt con la linea fabula ultimamente ha portato tutti i suoi libri, sicuramente arriverà anche questo, anzi, forse sia stato già annunciato, comunque arriva sicuro, comunque esce in inglese appunto il 25 aprile. Insomma, non ho portato tantissimi libri, spero pochi, ma buoni, ma tanto, ahimè, malgrado siano pochi, riusciamo ad allungare sempre le nostre wish list. Fatemi sapere questo mese in cosa delapiderei del vostro capitale e qui la roba, i desiderolibri sono troppi e quindi fatemi sapere quali sono i vostri maggiori desiderolibri e niente, diventiamo poveri insieme. Vi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e buona dell'abitazione del capitale. Ciao! Ciao!